Oggi è un giorno triste perché se ne è nata una persona per bene preciso sul lavoro un grande professionista che ci ha imparato un po' a tutti e io gli devo molto, anzi tutto, che pur essendo fio d'arte del mitico penticello, papà mio purtroppo se ne hanno via troppo presto per poter imparare il mestiere e per fortuna ci pensò Cesare a Piamme Sottola la sua insieme a Arcaccola e a Zagaglia. Ma ragà, vi ricordate la prima volta che Cesare ci portò a lavorare con lui? E a cu, a cu, quell'attico a fin, quell'attico a fin, a fin, a fin, a fin. A via Archimede, a Zagà, così ci fanno notte. Lo so a dire. Eramo Pischielli, se siamo tutti a cacassotto. Scusi Don Frati, ho un senso figurato. Capitato, fa curto. Ci mancherai a c'è, con te se ne va un grande artista morto sul lavoro. Il pinturicchio del piede del porco. Siamo stati insieme fino all'ultimo. Ma sono sicuro che ora, all'asso in cielo, ci troverai mi padre seduto su una nuvoletta che te sta aspettando. E come te vede, già a me lo figuro come te saluta. Ace, mortacci tua!